Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Chris e siamo tornati oggi con questo nuovo video. Oggi ragazzi sono qui con un video molto veloce per dirvi che sono tornato attivo sul canale ma per dirvi anche che se questo video raggiunge i 30 like pubblicherò un video che ho registrato l'altro giorno per alzare l'asticella perché come sapete io mi alzo quotidianamente alle 5 del mattino l'altro giorno come vi dicevo però ho voluto alzarmi alle 3 provando quindi ad essere più produttivo avendo due ore in più disponibili la mattina. E' stata un'impresa perché in realtà è stato molto complicato ma davvero molto bello perché comunque ho avuto molto più tempo la mattina per fare tante attività gestendomele bene. Perciò se volete che io pubblichi il video dove mi alzo alle 3 del mattino per essere il più produttivo possibile lasciate 30 like e ve lo pubblico subito. Inoltre se il video in questione una volta pubblicato raggiungerà i 100 like pubblicherò il video e mi alzo alle 3 del mattino per una settimana. Quindi mi raccomando lasciate un like, un commento e se ancora non lo siete o in iscrizione noi ci vediamo presto mi raccomando 30 like è abbastanza affettibile e quindi mi raccomando riusciamoci. Da Chris per oggi è tutto, bella!